The New Liquid Technology è l'inizio di un nuovo percorso aziendale che prende origine dall'idea di diversificare l'offerta con nuovi prodotti, restando però sempre vicini al settore, quello della filtrazione. Da qui l'idea di sviluppare un programma di prodotti chimici per il settore automotive, partendo da quelli più vicini alla filtrazione, come additivi motori igienizzanti abitacolo ed oli ATF sintetici per cambi automatici. La gamma si compone di diverse soluzioni, Climatech One Shot che è un spray igienizzante monodose per il climatizzatore ed abitacolo. FuelTech è un additivo pulitore per motori benzina che effettua un'azione detergente in tutto il sistema di alimentazione nella camera di combustione. Poi c'è DieselTech, additivo pulitore per motore diesel che garantisce protezione e pulizia dell'intero sistema di iniezione gasolio. Infine GPL Tech, additivo speciale per motori GPL con azione detergente del sistema di alimentazione e della camera di combustione. Ultimo arrivato è il programma ATF Tech, si tratta di lubrificanti sintetici per cambi automatici che assicurano protezione contro la corrosione, eccellenti proprietà lubrificanti, resistenza all'invecchiamento ed un'elevata capacità di assorbimento ed aderenza, nonché la totale prevenzione di depositi e cosa importantissima soddisfa i requisiti dei costruttori di veicoli.